Sondrio come Milano è messa l'ordinanza che dal 6 dicembre al 15 gennaio impone l'utilizzo delle mascherine all'aperto nelle aree più soggette a sembramenti esenti bambini sotto i 6 anni. Nelle aree di Sondrio, Sondrio e Morbenio verranno attivati gli ospedali di comunità, uno sarà anche a Tirano con all'interno una delle 6 case di comunità effetti dalla riforma sanitaria regionale. Sebastian Fortini amava i motori, era un astro nascente del motocross a soli 17 anni e volato in cielo, la sua scuola l'Enaip gli ha dedicato l'officina meccanica. Al Bosaggia conferma la sua vocazione di culla dello scialpinismo mondiale, nel 2022 il paese robico ospiterà la Coppa del Mondo, come sempre in prima fila lo staff della Polisportiva. Buonasera, buonasera a tutti. A Sondrio dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, mascherino obbligatorio all'aperto in occasione di spettacoli pubblici e privati, in tutte le situazioni in cui non si è garantito il distanziamento. Questo è quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Marco Scaramellini. L'aumento dei contagi, a cui si assiste anche in città, come nel resto della regione, e il rischio di assembramenti anche legati agli eventi natalizi, spiega Palazzo Pretorio, ha indotto il sindaco a emettere l'ordinanza. In questa fase, spiega Scaramellini, non possiamo permetterci passi falsi. Mentre prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose, è fondamentale mantenere alta la guardia e usare la massima prudenza per evitare che la situazione sia gravi. Grazie al vaccino, spiega Palazzo Pretorio, il numero dei malati in condizioni serie che necessitano di cura ospedaliere è contenuto rispetto al 2020, ma non possiamo permetterci una diffusione dei contagi. Sono esempi dall'obbligo della mascherina all'aperto, i bambini d'età inferiore ai 6 anni e le persone che per motivi di salute non possono indossare la mascherina. La riforma della sanità lombarda ha ottenuto il via libera del Consiglio regionale. Tante le novità contenute nel testo approvato in aula, tra queste gli ospedali e le case di comunità. Ecco cosa cambierà sul territorio della provincia di Sondrio e il primo commento di Simona Pedrazi, consigliere regionale della Lega. La legge di potenziamento della sanità lombarda è nata dopo la lunga maratona in Consiglio regionale, 16 giorni di lavori, 48 voti a favore, 26 contrari. In Lombardia sorgeranno 203 case di comunità, 5 quelle previste in provincia di Sondrio e 60 ospedali di comunità, 4 sul nostro territorio. Il voto in aula rappresenta un grande successo per tutti i cittadini lombardi, che avranno d'ora in avanti un servizio sanitario ancora più efficiente. Il primo commento di Simona Pedrazi, consigliere regionale valterinese della Lega. La legge di potenziamento della sanità regionale, frutto di un lungo lavoro di ascolto del territorio degli stakeholder, tra cui le associazioni di pazienti, presenta una serie di novità fondamentali per garantire un'offerta sanitaria sempre più all'altezza delle esigenze ed efficacia nell'affrontare le emergenze, a partire dall'istituzione del piano pandemico regionale e dalla creazione del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive. La Lombardia, aggiunge Simona Pedrazi, è la prima regione italiana a recepirle disposizioni del PNRR e attuarle attraverso la revisione della propria legislazione e all'allocazione di risorse dedicate. I fondi in arrivo dall'Europa sono quantificabili in 1,2 miliardi di euro. A questi si aggiungeranno diverse centinaia di milioni di euro messe a disposizione da Regione Lombardia. Buona parte del totale sarà impiegato per il potenziamento della rete territoriale, 567 milioni, per realizzare il Centro per la Prevenzione delle Malattie Infettive, 85 milioni, per il potenziamento della rete di offerta, 1,3 miliardi, ma anche per il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, 451 milioni di euro, e della telemedicina, 166 milioni di euro. La novità principale, il potenziamento delle reti di prossimità con gli ospedali e le case di comunità. Verranno creati anche gli ambulatori sociosanitari territoriali, che saranno la casa dei medici di famiglia riuniti in rete o in cooperativa. Per quanto riguarda il nostro territorio della provincia di Sondola, la TS della Montagna ha fatto varie proposte, sono state accettate e con una prima delibera di giunta possiamo dire che verranno istituiti tre ospedali di comunità individuati nell'area di Sondrio, Sondalo e Morbenio. Cinque case della comunità individuate a Bormio, Chiavenna, Morbenio, Verbenno e Sondrio e un ospedale di comunità con all'interno una casa di comunità nel comune di Tirano. Ci saranno poi nuove delibre di giunta che andranno a rafforzare chiaramente e soprattutto a soddisfare quelle che sono le esigenze e dove i sindaci saranno parte fondamentale. La sanità pubblica si deve riprendere i suoi spazi, quelli progressivamente occupati dai privati. Questo è uno dei temi affrontati dalle ACLI che a Sondrio hanno organizzato e proposto un convegno dedicato alla riforma sanitaria regionale. Più attenzione alla medicina del territorio, il potenziamento della sanità pubblica. Temi messi sotto la lente delle ACLI nell'incontro svolte su una sala conferenze dell'ufficio scolastico di Sondrio, proprio nel giorno dell'approvazione in consiglio regionale della riforma del sistema sanitario Lombardo. All'incontro non è voluto mancare il prefetto Salvatore Pasquariello. Questa riforma che in verità non cambierà molto però introduce le case di comunità e gli ospedali di comunità. Quindi le nostre proposte, primo, è che non si chiudono altri ospedali. Secondo, che nelle case di comunità, oltre alla presa in carico delle persone cosiddette acute e in difficoltà, ci siano anche i servizi sociali che possono gestire tutti i rapporti col territorio e dalle case di comunità possa essere rimessa insieme la medicina socio-assistenziale sul territorio, cosa che era saltata per aria tutta in questo periodo. Dalle case di comunità deve partire anche tutto il progetto dell'assistenza ai non autosufficienti, quindi alle famiglie che hanno persone che non sono autosufficienti in casa, a cui gioca la regione attraverso le case di comunità organizzi il servizio di domiciliarietà. Nessuno mette in istruzione l'eccellenza della medicina degli ospedali lombardi, però c'è una grande carenza di medicina territoriale e l'abbiamo vista durante la pandemia, quando le persone non potevano che accedere agli ospedali perché c'era una carenza disperata di medici di base, di strutture territoriali che potevano accogliere comunque i malati di covid. Le strutture private determinano gran parte dell'offerta regionale, quindi ci troviamo nel proliferare magari di tante strutture private con la stessa vocazione e strutture pubbliche che invece, come per esempio il pronto soccorso, che sono al collasso perché sono eminentemente pubblici, sono una marea di ospedali che non hanno questo pronto soccorso perché è un'attività impegnativa e diciamo anche meno redditizia. Qual è il giudizio delle ACLI sulla riforma della sanità lombarda? Utilizzo i soldi del famoso PNRR, che è questo provvedimento europeo che dà dei soldi e dei fondi ingenti all'Italia, per implementare queste case della comunità che dovrebbero svolgere questa funzione di medicina territoriale, ma ancora oggi non si sa bene cosa conterranno. Sebastian Fortini amava i motori, era un astro nascente del motocross nazionale. A suoi 17 anni è volato in cielo. La sua scuola, l'Eneip di Morbenio, gli ha dedicato l'officina meccanica toccante la cerimonia di inaugurazione. Dedichiamo anche il laboratorio di motori d'auto a Sebastian Fortini, che è stato un nostro allievo e che purtroppo è scomparso in un tragico incidente, mentre si stava allenando l'anno scorso. È un tributo perché ricorda la sua passione, ma è un modo per guardare avanti anche nel suo nome, l'intitolazione dell'officina meccanica del corso Eneip di Morbenio a Sebastian Fortini, ragazzo di 17 anni, scomparso poco meno di un anno fa, mentre si allenava in moto in Bassavalle. Uno dei sogni di Sebastian era poter imparare il mestiere sulle moto e quando Colombo mi chiamò, era marzo di quest'anno e mi disse che c'era questa idea, in un secondo ho detto che la nostra associazione avrebbe pensato ad allestire per quello che abbiamo fatto l'officina meccanica con delle moto, degli scooter, degli strumenti di lavoro, dei cavalletti, grazie e anche poi ai nostri sponsor. Oltre ai familiari di Sebastian, insieme agli amici, al dirigente, i docenti e gli studenti dell'Eneip, il sindaco di Morbenio Alberto Gavazzi e i rappresentanti di provincia e regione, hanno preso parte alla cerimonia di dedicazione anche il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, e il comandante provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Marco Piras. Abbiamo dato questa mano insomma, che ci rende fieri perché secondo noi i giovani devono avere una passione e se un lavoro appassiona non è fatica e non ti fa neanche sentire la stanchezza, quindi si prova a fare questo in ricordo appunto di Sebastian. A me fa molto piacere l'intitolazione a Sebastiano perché anzi un abbraccio forte ai propri familiari, stiamo parlando con loro per vedere se riusciamo anche a creare le condizioni per creare una pista di cross, di motocross e quindi far chi ha la passione come Sebastiano del motocross di farlo in sicurezza, quindi questo è un progetto non facile ma sul quale tutte le istituzioni sono impegnate. Una scelta direi dovuta e questo celebra una volta in più quelle che sono le nostre capacità e ricordo soprattutto la memoria che viene tramandata alle generazioni future che possono dare sviluppo, lavoro e possibilità di traguardare un futuro per la propria famiglia nella nostra meravigliosa provincia. Valtellina e Liguria hanno diversi punti di contatto, la viticoltura sui terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, ad esempio accomuna i due territori. A Monterosso, nelle Cinque Terre, lo storico convento a un rettore valterinese, padre Renato sabato era in Valtellina per presentare un libro dal quale emerge la presenza dei cappuccini a Sondrio, vediamo. Un convento dei frati cappuccini a Sondrio dove oggi si trova il convitto nazionale. La suggestiva immagine è stata mostrata a Poggi Ridenti nel Salone dell'Oratorio San Fedele durante la presentazione del libro dedicato al celebre convento dei cappuccini di Monterosso al mare, oasi di pace delle Cinque Terre, un'opera monumentale tenuta a battesimo da padre Renato Bransverca, rettore valterinese del convento Ligure, volume curato da Alberto Cipelli e Andrea Lercari. Vediamo sullo sfondo la nostra Valtellina, Poggi Ridenti, quindi un ritorno alle radici, alle origini per parlare poi di collegamenti fra Valtellina e Liguria. Esattamente, grazie innanzitutto di questa benevolenza che ho sempre da parte della mia gente quando ritorno in valle, perché sono orgogliosamente valtellinese, anche se sono alle Cinque Terre ormai da 15 anni per questo progetto, questi volumi che ci ricordano 400 anni di storia, di cultura, di sacrificio dei frati in questo borgo così impervio, ma che ricorda la nostra tradizione. D'altronde i valtellinesi imparano dai Ligoni a fare i terrazzamenti, i vigneti, i moretti a secco, eccetera. Abbiamo fatto delle ricerche perfino negli archivi vaticani, da cui abbiamo avuto degli elogi dalla Biblioteca Vaticana, 30 professori universitari per ricerche approfondite, quindi è la prima, è un volume prezioso dal punto di vista storico, scientifico e culturale, dove intervengono anche amici del convento, amici importanti come Michelangelo Pistoletto, questo scultore di fama internazionale, c'è l'intervento anche di Federico Rampini, corrispondente dall'estero, tutti conosciamo tramite la TV, il figlio di Tiziano Terzani, Folco Terzani, siamo amici. La pandemia è una dura prova per tutti, ma quale insegnamento si può trarre da questa esperienza? Anche in questo momento difficile della pandemia dobbiamo continuare a chiederci il perché, l'uomo dove vuole arrivare, dove sta andando, perché siamo arrivati a questo punto dove un minuscolo maledetto virus ha paralizzato il mondo, ma non dobbiamo fermarci, non dobbiamo vivere d'angosciati, terrorizzati, ma con l'intelligenza del cuore, quello sì. Lo sport è una delle culle mondiali dello scialpinismo, ha dato i Natali a campioni leggendari come Graziano Boscaccia e Iva Murada e solo tracce sono cresciuti, abbiamo visto, atleti che oggi fanno incetta di medaglie e trofei. Ad Albosaggia lo scialpinismo è davvero di casa e nel 2022 farà tappa la Coppa del Mondo. In Albosaggia le gare non si rinviano perché l'organizzazione della polisportiva, forte di 40 anni di esperienza di competizioni, punta alla perfezione, aggiungiamo noi alla celebre frase pronunciata durante la Coppa del Mondo 2007, quando tutte le altre gare erano state posticipate. Di recente due passi avanti verso la 35esima Valtellina Europa International Ski Monitoring Federation Ski Alp World Cup di febbraio. Primo la visita e il loco dei vertici della federazione e poi l'insediamento del comitato istituzionale presiduto da Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, che oltre ai soggetti promotori, polisportive e comuni di Albosaggia, coinvolge anche Comuni di Sondrio, Unione dei Comuni della Valmalenco e Consorzio Turistico Sondrio-Valmalenco. Conto alla rovescia allora per la sprint race a Caspoggio del 3 febbraio e per l'individuo a race a Merigio del 5, con più di 160 atleti provenienti da tutto il mondo. E per i sei giorni di eventi è il villaggio dello Ski Alp che sarà allestito in centro a Sondrio. Sul tavolo dei tecnici intanto ci sono in particolare i tracciati, la sicurezza, la gestione di tutti i protocolli anti-Covid e l'ospitalità di squadre e media. E poi sopralluoghi in elicottero per definire con precisione i percorsi, le perlustrazioni da terra e i meeting per analizzare tutti i punti della checklist federale. Decisamente carico di entusiasmo il giudizio espresso anche su questi aspetti specifici dal direttore generale dell'International Ski Monitoring Federation, Roberto Cavallo, che al termine delle verifiche effettuate insieme al responsabile federale per la parte tecnica, Stefano Mottini, ha ribadito come il Valtellina o Robbi e sia ormai una vera e propria istituzione nel panorama dello scialpinismo mondiale. Riflettori puntati sulle gare dunque, ma anche sul territorio e sugli obiettivi futuri, soprattutto in vista della prima assoluta dello Ski Alpa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la disciplina delle pelli di foca al debutto nel panorama dei cinque cerchi proprio in Valtellina sulle nevi di Bormio. Bene, con questo è davvero tutto, l'appuntamento anche sul web con il nostro sito teleunica.com, lì trovate anche la nostra web tv, come sempre la nostra presenza su tutti i principali social. Buona serata a tutti!